parlava delle cose in cui credeva qualche volta non la capivamo però io ho sempre accettato la sua volontà anche quando non capivo sempre quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi alberi infiniti quando tu sei vicino a me mi sembra un organo che vivrà per te e per me sull'immense isolazione per te e per noi nel cielo so quanto ti costa